ragazzi schiariamoci la voce diaframma respiro ritmo ma che novità è questa non lo facciamo già sì ma da adesso in avanti ancora di più e sapete perché io avrei un'idea le fonti ora e anche in radio esatto alexandra ora con le fonti siamo anche a portata di voce semplicissimo entrate nel nostro sito le fonti punto tv c'è una nuova sezione live radio con un click potete ascoltare tutta la nostra programmazione dalle 9 alle 17 30 quindi si potrà ascoltare tutto tutto i nostri figi flash aggiornati gli approfondimenti le nostre figli giacomo che domande fai tutto del resto l'abbiamo sempre detto che noi ci siamo e siamo dappertutto e soddisfazione giacomo hai capito anche tutto chiaro e allora voi che cosa aspettate le fonti punto tv la sezione live radio sia per la diretta che per il podcast